Un microfono non si sente? Se mi sentite ci sentiamo? No! Non si sente? Allora, se la logica è qui, c'era la signora che stava esplicitando magnificamente un concetto, allora se c'è una delegazione che ci vuole trasmettere anche i contenuti, nel senso che è inutile che vogliamo trasmettere Grazie! La parola! Grazieолодo!